Chi indossa la divisa fa parte di un unico corpo con diversi compiti ma con la stessa umanità. Così è esordito il Vescovo Armando venerdì 31 marzo nell'omelia del precetto pasquale Interforce, celebrato in cattedrale e al quale hanno preso parte le autorità civili e militari presenti sul nostro territorio. Vorrei incoraggiarvi, ha sottolineato il Vescovo, al cosiddetto precetto pasquale. In fondo cos'è la Pasqua? È sentirsi amati da Dio nonostante le nostre fragilità, camminare, inciampare, cadere, rialzarsi e tornare a camminare a una dinamica spirituale. Quanta fatica a volte a riconoscere la propria fragilità, ad ammettere certe sconfitte e sapendo di non farcela da sole a ricorrere a Dio. Ogni volta che si cade più in basso la strada per risalire è più lunga e faticosa. Tuttavia ha proseguito il Vescovo per trovare la ragione che impedisce davvero il cambiamento occorre guardare in alto e guardarsi dentro, per trovare la stima e la fiducia che vengono dal sentirsi amati da Dio. E per sentirsi amati da Dio però bisogna anche sentirsi un po' perduti. Il Superbo infatti non ha bisogno di Dio perché è pieno di sé. E' decisivo per il proprio cammino spirituale, ha sottolineato il Vescovo, sapere che qualcuno ti sta amando nonostante il tuo gesto. Il segreto della speranza di chi pecca, di chi è fragile, sta proprio nell'amore misericordioso di un Dio che non giudica e non condanna, ma viene a liberare dal laccio. Il Vescovo si è poi soffermato sul valore della divisa. Voi che indossate la divisa per dare molto, occorre che vi sentiate riconosciuti molto dalla società civile e dallo Stato, ma anche dalla Chiesa.